Passano i giorni e il successo di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi si consolida, raggiungendo 25,5% di share. Il programma di Rai 1 si è misurato contro il ritorno di Striscia la notizia che, come l'anno scorso, si attesta intorno al 15-16%, ma soprattutto con il debutto di Amadeus sul 9. Un confronto sotto i riflettori per una serie di motivi, ma c'è da dire che fare il paragone tra la Rai e il canale 9 non è propriamente corretto. Il canale in cui è approdato Amadeus, infatti, non è mai stato in gara per gli ascolti e ovviamente anche in questo caso parte decisamente in svantaggio. Discovery ha speso 10 milioni di stipendio e 100 milioni in programmi nell'arco di 4 anni per Amadeus, mentre la Rai ha puntato su un volto giovane e amato, quello di Stefano De Martino, promosso alla guida della fascia più pregiata della televisione senza avere l'esperienza giusta. Ma scelta della Rai è stata vincente e gli ascolti hanno premiato Affari Tuoi, che comunque è un format a cui gli italiani sono molto affezionati. Canale 9 ha deciso di non puntare su un'idea nuova e ha deciso di riproporre al pubblico di Lama quello che in Rai era a soliti ignoti, ribattezzato a chissà chi è. La prima puntata ha garantito ad Amadeus un ascolto in simulcast su tutti i canali del bouquet Discovery del 8,8%, mentre del 5,2% sul solo 9, i due episodi seguenti si sono assestati su share non esaltanti, 3,8% lunedì, 3,6% martedì sera. Dopo la puntata diversi utenti sono andati sul profilo di Amadeus per criticare il conduttore e, in diversi casi, anche di prenderlo in giro per gli ascolti del programma. Ma io preferisco Stefano Bye Bye, ammettilo, hai fatto flop, statene alla 9 io vedo Rai 1, con programmi nuovi forse avresti avuto più ascolti, la minestra riscaldata non è più buona. Mossa intelligente della Rai ad aver messo alla conduzione Stefano De Martino, ti ho sempre seguito, bora nn più, chissà chi è sta calando, va a fare i tuoi sta crescendo vuoi mettere, Stefano è fantastico, si legge tra i commenti dell'ultimo post pubblicato da Amadeus. Commenti ai quali i fan di Amadeus hanno risposto, ma perché nei commenti è pieno di odio verso un uomo che fino a qualche mese fa amavate tutti, chiede un utente a chi critica il conduttore. Ma c'è da dire che la maggior parte dei commenti è a sostegno del conduttore approdato al 9 dalla Rai, e soprattutto trovo ingiusto, che si butti nel dimenticatoio, quanto di buono è stato fatto da Amadeus nel corso di questi anni, soltanto perché adesso non si trova più in Rai. Sicuramente avrà avuto le sue ragioni per abbandonare la Rai dopo tanti anni, cosa ne possiamo sapere delle dinamiche interne che magari si siano venute a creare. Massimo rispetto per Amadeus, ricordiamoci che è stato lui a rivoluzionare affari tuoi come programma, non ci sono dubbi che De Martino abbia le capacità per condurre molto bene il programma. Però c'è anche da sottolineare il fatto che ha prodato in una trasmissione che già con Amadeus aveva riscontrato un gran successo e aveva fatto un gran numero di ascolti, diciamo che sotto questo punto di vista ha trovato un po' la strada spianata, in più è giovane. Di conseguenza ha un modo di condurre. Che attira di più, si legge ancora tra i commenti.